per dimenticare le tristezze della vita passiamo a qualcosa che ci piace accessori fotografici e in particolare borse roberto ha scattato questa fotografia a foto china e ancora una volta il suo aspetto è già ottimo ma volevamo vedere cosa aveva da dire alce in ogni caso quindi abbiamo fatto due passaggi una raggio 20 e una raggio 200 partiamo dal secondo come potete vedere il raggio 200 e accade spesso su immagini di grandi dimensioni come questa vi dà un bel colpo senza grossi problemi questo è l'originale questo è alce 200 se non siete ben sicuri sul punto da cui partire potete semplicemente mantenere il valore di default che è 100 applicare alce vedere cosa succede ma siete abbastanza esperti a questo punto e quindi potreste chiedervi qual è il vero soggetto in questa fotografia per me si tratta delle borse e le borse non sono molto grandi questo è il motivo per cui ho utilizzato alce anche raggio 20 le borse sono molto migliori in questa versione e questo richiede un'occhiata più da vicino zoomiamo questo è l'originale questo è alce 20 questo è alce 200 di nuovo originale alce 20 alce 200 non si discute credo io terrei alce 20 quello che non mi piace è l'effetto su alcune parti dell'immagine come il marchio cata notate gli aloni qui questa immagine abbastanza simile per certi versi alla precedente gli oggetti di interesse sono neutri o molto vicini alla neutralità non userò una maschera stavolta ma ho comunque bisogno del metodo lab certamente ricordate che gli oggetti neutri si situano attorno al 50 per cento di grigio in entrambi i canali qui mi aspetto che ci sia un canale in cui essi saltano fuori perché lo sfondo e il pavimento sono gloriosamente gialli non solo i quadrati nel marchio sono rossi e il rosso contiene giallo le lettere sono verdi e il verde contiene giallo sarei pronto a scommettere su un canale a o b se avete risposto b è la risposta esatta diamo un'occhiata tutto ciò che vogliamo filtrare è più chiaro degli oggetti che ci interessano vive sul lato destro per così dire dello spettro del canale b potremmo fare qualcosa di simile a ciò che avete visto nell'esempio precedente ma mi piacerebbe mostrarvi un metodo spesso trascurato chiamato fondi se avete probabilmente compreso che sono molto pigro quindi farò qualcosa di estremo per mostrarvi il concetto invertiamo il livello alce in modo che qualsiasi fusione tentiamo di fare diventi molto evidente adesso facciamo doppio clic sul livello e apriamo la finestra stili di livello ci sono molte opzioni complicate qui ma ci concentreremo sui cursori in basso quello è il fondi se o se preferite la fusione condizionale la domanda che dobbiamo farci è cosa voglio fare con questo livello la risposta è voglio che esso appaia dove c'è poco giallo o dove non c'è alcun giallo ovvero vogliamo mantenere le componenti gialle dallo sfondo perché lo sfondo non ha aloni sappiamo già che il giallo è controllato dal canale b quindi scegliamo b dal menu fondi se e diamo un'occhiata ai cursori hanno un aspetto familiare vero il blu è a sinistra il giallo a destra ora escluderemo dalla fusione le aree che vogliamo mantenere dallo sfondo il cursore superiore si riferisce al livello corrente mentre quello inferiore si riferisce al livello sottostante in questo caso abbiamo invertito il livello superiore allo scopo di visualizzarlo meglio quindi utilizzeremo il cursore più in basso lo sposto con il mouse e lo muovo verso sinistra attenzione cosa succede il giallo inizia ad apparire qua e là questo accade perché il livello sottostante inizia a mostrarsi quando mi devo fermare beh quello che voglio è che appaiano anche il rosso e il verde quindi sì in questo punto sembra più o meno giusto appena otteniamo un risultato decente ci fermiamo usate gli occhi comunque l'unica obiezione possibile in questo caso è la posterizzazione nei punti in cui le due immagini si incontrano ma c'è una via d'uscita veloce e semplice dobbiamo solo cliccare sul cursore tenendo premuto il tasto alt e il cursore si dividerà in due trasciniamo la parte sinistra ancora un po e la posterizzazione scompare è una specie di sfocatura fatta con il fondi se in pratica stiamo forzando photoshop a creare una transizione morbida tra due livelli piuttosto che una troppo secca e sì è come sfocare una maschera certamente ci siamo proviamo con la funzionante prima spenta e tutto è negativo accesa e le parti rilevanti dello sfondo emergono clicchiamo ok invertiamo nuovamente il livello ecco fatto ora alce 20 spento alce 20 acceso spento acceso gli elementi neutri vengono enfatizzati il resto rimane intatto forse questo vi sembrerà lungo e complesso ma probabilmente la manovra più semplice è fatta fin qui fatemela fare di nuovo prima di tutto vado a resettare le condizioni che appena imposto doppio clic sul livello alce 20 e cursori tutti a destra clicchiamo ok ora inverto il livello sottostante trascino il cursore ok alt clic per separare transizione morbida clicco ok inverto il livello alce finito visto che rapido cosa difficile avete detto il metodo lab ascoltatemi bene io sono paziente ma stavolta ve la siete cercata fin qui vi ho dato ogni sorta di tecnica in rgb e lab a questo punto vi meritate un metodo colore con quattro lettere suona come una parolaccia c m y k ve la siete cercata mi dispiace grazie a tutti i nostri spiace